Nel 1952 viene pubblicata da Magenta un'antologia di sei poeti italiani a cura di Luciano Anceschi. Sono i poeti della linea lombarda e il titolo del libro e tra di loro ci sono Vittorio Sereni e Luciano Erba. Oltre alla dichiarazione di appartenenza diatopica, la Lombardia molto italiana degli anni 50 ma già avviata ad un certo protagonismo continentale condividono uno stilema poetico che lo stesso Anceschi chiama il re, attento al concreto, saldamente avvitato alla realtà non disdegnante l'impegno civile. Certamente una linea di demarcazione molto netta rispetto alle ubriacature dissocianti delle avanguardie da una parte e all'ermetismo simbolico del primo Luzzi dall'altra. Negli anni vicini a noi la vocazione alla quotidianità di messe pungente, cito Alfredo Giuliani, al partito preso delle cose, cito il formidabile libro di Francis Ponch in edizione italiana e in audi con testo francese a fronte, ha fatalmente imboccato approdi stilistici diversi, molto spesso assecondando certe modalità descrittorie e pratattiche le quali, volendo giungere alla cosa, in realtà l'hanno devastata in un nullismo di maniera. Il protagonista della strada della poesia odierna, Vito Bianco, ha giocato il rischio vitale dell'immersione nel canone tradizionale, la linea lombarda appunto, riguadagnando però la sponda del testo con un proprio stile, una modalità versificatoria originale, per intenderci quell'odore di semantica e di ritmo che si impara a riconoscere nella poesia di cui ci innamoriamo. Mi sembra che siano perlomeno tre gli elementi che danno conto di questa riemersione dal canone della poesia di Vito Bianco, peraltro ben iscritti in avamposto sul confine, ultima raccolta del poeta, edita da Torre del Vento. Un libro coraggioso, questo avamposto sul confine, un campo di battaglia tra oggetti che vorrebbero schizzare via dietro una forza gravitazionale di senso contrario e la pressione verso giù dell'accadimento banale e quotidiano, la caduta in questi versi che adesso vi propongo. Mi fermo, guardo il bunker tedesco, l'ombrico di cemento scavato nella rena dura. Volano foglie secche, un bambino cade a faccia in giù. Veniamo al primo aspetto che voglio con più evidenza ancora sottolineare della poesia di Bianco. E facciamolo con questi versi. La colomba ha deposto nel vaso vuoto, sulla poca terrarsa indurita, due uova. Quando meno me l'aspetto, plana a covarli, li copre con un'ala, fa sentire il peso dell'età. Se nascono, quando nasceranno, vorrei essere il battista, il testimone della forza che non si cura di niente e senza annuncio prende il volo. Sono versi emblema di una procedura non solo scrittoria, ma anche teorica, che muove dal partito preso delle cose, appunto, ma si rivolge e concede accesso anche a una spiritualità netta, incisiva ma dimessa, un po' decadente, un ultramondano ancestrale, piuttosto che religioso. Il secondo motivo è la forza della enumerazione. Bianco è abilissimo in questa difficilissima costruzione da amanuense, la tradizione letteraria della lista delle cose messe in elenco a costituire insiemi materiali e unersi spaziali, Calvino, o tappe di viaggio, Proust, o nomi e cognomi degli amori finiti, come in Nick Orby. Assaporiamola nei testi di Bianco. C'erano cose mie e tue, calze mutandine, il tuo vestito, viola e verde che si ferma sopra la tibia, la sciarpa lunga tua e mia, la dolce vita tua, ma che non metti da almeno sette anni. O ancora, mi vogliono affamare, mi chiudono la bocca, gettano la chiave della stanza, tagliano i rami lunghi delle querce che arrivano sotto le finestre, lasciano solo farsi segnali, mi entrano e rientrano nella testa. Solo negli scrittori, nei poeti molto preparati, di una cultura fatta di tanta lettura di testi, e sui testi, e la cultura poetica del nostro poeta, è l'ultimo elemento che voglio mettere in rilievo, vige la possibilità di trasfigurare nell'universo della poesia il mondo composito e affascinante dell'elenco, della giustapposizione, del catalogo, come accade al poeta Vito Bianco, che adesso ascolteremo leggere e parlare la sua poesia e della sua poesia. Vito Bianco, le poetesse e i poeti si presentano e salutano con i versi. Beh, vogliamo ascoltare i tuoi versi per presentarti e il tuo saluto. Va bene, propongo questi, sono inediti. In vent'anni di lunghi viaggi hai fatto un passo avanti, fermo a un semaforo, nell'orecchio il basso di un pensiero molesto, sulla bocca la parola straniera che fa battere le labbra. La sera è rossa, si infiammano i fanali, i violinisti si salutano chinando la testa, nella piazza la ragazza di bronzo non smette mai di spiccare il salto, nel parco i conigli escono da un cespuglio, si incantano a guardare l'ombra di un ramo, spariscono nel sottobosco nero. Grazie di questa intensa lettura, iniziamo nel migliore dei modi questo appuntamento della Sala della poesia con Vito Bianco. Adesso siamo nel momento in cui ti chiediamo tutti quanti di offrirci la tua poesia, i tuoi versi, che più ti rappresentano. Ho deciso di presentare, di rispondere a questa domanda proponendo, leggendo la poesia che sta sulla quarta di copertina del mio ultimo libro, che si intitola Avamposto sul confine, lo voglio dire, pubblicato da Torri del Vento, che ringrazio. A breve ne parleremo. D'accordo. La poesia si intitola Uova. La colomba ha deposto nel vaso vuoto, sulla poca terra arsa indurita, due uova. Quando meno me l'aspetto, plana a covarli, li copre con un'ala, fa sentire il peso dell'età. Se nascono, quando nasceranno, vorrei essere il Battista, il testimone della forza, che non si cura di niente e senza annuncio prende il volo. Perché questa scelta, Vito Bianco? Perché, allora, il motivo principale è che questa poesia, come molte delle mie, partono dall'esperienza per inventare appunto un organismo autonomo che è la poesia. In questo caso, il di più è dato dall'osservazione di creature non umane, appunto. Un evento, secondo me, abbastanza straordinario e nello stesso tempo ordinario, perché quello che racconto nella poesia è realmente accaduto. Ma, fra l'altro, quello che emerge dai tuoi versi, per lo meno, secondo la mia prospettiva, è questa attenzione particolare agli oggetti. Mi fa un po' venire in mente il correlativo oggettivo nella formulazione di Elliot, nella sua formulazione originaria. Ad esempio, penserei a un oggetto, l'uovo, che abbiamo appena ascoltato, che non è soltanto metafora. Non so se è così, non so se siete d'accordo. Sì, ma hai nominato il poeta, come dire, hai fatto l'esempio giusto, perché, appunto, l'esempio di Elliot è quello che indica la strada, come sai, alla poesia moderna, appunto. Non più allegorie o metafore alla vecchia maniera, bensì con relativi oggettivi. Così potrebbe fare, ovviamente in questo caso, anche il nome di Montale, che è sulla scena di Elliot. Senz'altro, mi viene anche in mente quell'altro grandissimo poeta, purtroppo negli ultimi decenni un po' sottovalutato all'attenzione pubblica, non certo dalla critica, ovvero Vittorio Sereni. Bene, siamo a questo proposito, siamo giunti al momento dei versi della poesia degli altri. Qual è il poeta altro a Vito Bianco? Mi hai letto nel pensiero, perché il poeta che ho scelto, ma non poteva che essere così, è proprio Vittorio Sereni. Possiamo dire, Vito, che non ci eravamo parlati, no? No, 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 infatti è un caso straordinario, o comunque una coincidenza ordinaria, ma ne ho sessuto un po' straordinaria, che può riguardare solo la poesia del resto. La poesia che ho scelto è una poesia che ho commentato in un libro di letture poetiche e che è la poesia che chiude gli strumenti umani, il terzo libro di Vittorio Sereni, se non ricordo male, che è il mio poeta di riferimento, insomma, è un poeta che amo davvero molto e che probabilmente, anzi sicuramente, mi ha insegnato qualcosa. La poesia si intitola La spiaggia, ed è, vabbè, insomma, prima la leggo, poi magari ne parliamo. Sono andati via tutti, blatterava la voce dentro il ricevitore, e poi, saputa, non torneranno più. Ma oggi, su questo tratto di spiaggia mai prima visitato, quelle toppe solari, segnali di loro che partiti non erano affatto, e zitti quelli al tuo voltarti come niente fosse. I morti non è quel che di giorno in giorno va sprecato, ma quelle toppe di inesistenza, calce o cenere pronte a farsi movimento e luce. Non dubitare, mi investe della sua forza il mare, parleranno. Poesia straordinaria, secondo me, che si potrebbe classificare sotto la rubrica del dialogo con i morti, però secondo me è qualcosa di più. In questa poesia Sereni cerca di fare vedere l'invisibile, ed è un esperimento che solo la poesia ci consente, e i grandi poeti, ovviamente. E' questo, insomma, il dialogo tra i vivi e i morti e il tentativo di stabilire un contatto in una sorta di terra di nessuno, che in questo caso è il tratto di spiaggia mai prima visitato. e infatti Vito Bianco c'è in Sereni, si può senz'altro dire, una ripresa della considerazione degli oggetti nei modi in cui, dicevamo prima, dopo la grande ubriacatura delle avanguardie e delle nuove avanguardie. Sì, Sereni è un poeta fondamentale per lo sviluppo della poesia italiana del dopoguerra. Lui e degli opagliarani, e anche il Mario Luzzi degli anni Sessanta, introducono nella poesia lirica la dimensione narrativa e dialogica, che è una cosa fondamentale, che porta la poesia italiana fuori, diciamo così, dalle secche di quello che si potrebbe chiamare il post-ermetismo. Fra l'altro, insieme, senza altro, insieme possiamo non soltanto consigliare, ma implorare, implorare la lettura della ragazza Carla. Della ragazza Carla che è del 57, che è il vero grande punto di svolta della poesia italiana nel dopoguerra. Esattamente. Diciamo così, lo sperimentalismo di sostanza. Proprio qualche giorno prima di questo incontro sono riuscito a trovare in una piccola libreria di Milano la ristampa del saggiatore degli immediati dintorno di Sereni, che non ero ancora riuscito a trovare, quindi insomma tutto torna. Benissimo, meravigliose queste corrispondenze fra me e Vito Bianco e soprattutto tra Vito Bianco e i nostri ascoltatori. Vito Bianco, è il momento delle parole pandemiche, le tue parole per questa fase. Le parole della pandemia anche in questo caso i contagi sono in aumento, in risalita, a Brescia, io abito a Cinisello Balsamo, a Brescia la situazione è drammatica e quindi insomma purtroppo questa prima poesia di una sequenza che adesso leggerò sono drammaticamente d'attualità. Sono cinque poesie che io ho riunito in un piccolo ciclo e che ho scritto nelle settimane del lockdown della scorsa primavera. Il titolo non poteva che essere Distanza di sicurezza. È la prima di cinque poesie. Da due settimane camminiamo senza mai aprire la bocca, lo sguardo puntato alla meta, abbiamo il freddo nelle ossa, il passo incerto, nelle orecchie coperte ci risuona l'ultima notizia dei telegiornali. Cresce ogni mattina di un palmo la paura, le chiese sono chiuse, sonnamboli i tram trasportano per strade deserte spettrali trasparenze ai capolinea. Vito Bianco, siamo giunti alla fine di questo appuntamento con la tua poesia e con la poesia, ma prima di salutarci ancora con i versi, qui alla strada della poesia ci piace far vedere l'oggetto libro, oltre al libro come densità di spessore dei suoni diversi e di concetti. Ecco, mi piace appunto mostrarlo e intanto ti chiediamo di presentarlo. Allora, il libro, come dicevo prima, si intitolava Un posto sul confine e il mio terzo libro di poesia dopo Versi del non riposo e Come uno che passa. L'ha pubblicato anche stavolta Torri del Vento, un piccolo e agguerrito editore palermitano con una nota critica di Leonora Cupane. Benissimo, quindi appuntamento in libreria con Vito Bianco, con i libri di Vito Bianco, il quale adesso ci saluta con i suoi versi, come fanno sempre i poeti. Grazie, è una breve poesia sui bambini che sono uno dei miei temi diciamo così poetici probabilmente, credo. I bambini senza saperlo sanno quando è meglio non voltarsi, lasciare che il saluto sia silente, un accordo non detto tra chi rimane e chi parte, scritto con l'inchiostro della mente. Grazie, grazie di esserci stati a voi. Grazie a tutti di esserci stati. Grazie, grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.